In Caserta e Casa Giove, i carabinieri della Compagnia di Caserta, unitamente a personale NAS Carabinieri, nell'ambito di un servizio straordinario finalizzato al controllo degli esercizi commerciali, gestiti da cittadini di nazionalità cinese, hanno deferito, in stato di libertà, per violazione in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, il titolare di un ristorante cinese di Casa Giove, dove, a seguito del controllo, sono stati altresì sequestrati 10 kg circa di alimenti in cattivo stato di conservazione, il locale deposito e quello cucina in quanto non riuniva i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente. E poiché è avviato in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel corso dello stesso servizio, i militari dell'arma hanno proceduto al controllo, con contestuale sequestro di un ingente quantitativo di giocattoli privi del contrassegno della comunità europea, tutti pronti per la vendita in occasione del prossimo carnevale, nei confronti di due esercenti commerciali cinesi ai quali sono state irrogate sanzioni amministrative pari a 10.000 euro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!